si inizia una nuova avventura con control wow mi ha incuriosito fin dall'uscita questo giochino però non sono riuscito a non spoilerarmelo quindi non so cosa aspettarmi sia come gameplay sia come come storia vediamo se parte un po angusciante devo dire via tutorial lasciamo tutorial verdi mira per il momento no assistenza mira partiamo facile posta scuro a scudo scusa ok lasciamo di default a meno che non vedo qualcosa proprio di particolare controlli salta scatta spara beh spero che ci sia un minimo di tutorial tanto se me lo vedo adesso linguaggio che abbiamo e lasciamo inglese con le cuffie no la lascio dai non lo voglio ruivare luminosità non sia visibile quando la centrale sia appena visibile io non vedo un cazzo solo quella di destra quindi andiamo non sia visibile quella sinistra eh in effetti non la vedo nemmeno al massimo ok torniamo sottotitoli li mettiamo ma si mettiamoli ma non mi fa vedere niente prima niente non capito che se tolgo i sottotitoli non mi fa vedere un cazzo vabbè iniziamo dai se qua mi sta dando dei tutorial anche se non ho idea di cosa stia parlando se non ho idea di cosa stia parlando facciamo la mappa con il tasto su di ricordarmi almeno questo per il momento iniziamo già in tripposi e ci sono sempre piaciuto di ascoltare senti è solo che ho messo mi aspettate so molte volte ha fatto a nulla ho trovato nulla ho trovato nulla è come viviamo in una sala e c'è una postera la caverna del platone la caverna del platone che cazzo che cazzo ci sono la cazzo che ci sono la cazzo che ci sono la cazzo la cosa non il mondo il mondo il mondo è molto più e molto più si da cazzo cazzo qui sui il mondo mondo. Ci siamo tutti sicuri in quella sala. Ma a volte, a volte qualcosa si può fuori dal posto. E i che vedono che succedono e provano a farmi lo che vedono. Sono qui. Perché mi portavi qui? Hello? C'è qualcuno qui? Che posso fare? Salto. Salto solamente per adesso. E zoom. Ho già mai messo l'ansia a sto gioco. Questa io non dovrei sapere Ah, si sposta. Non dovrei sapere certe cose, ma... Ah, salto pure sopra. Faccio vedere tutto? No. Questa è un'attrice di Beautiful. Io perché so queste cose? Non dovrei saperle. Eh, vabbè. Credo che sia stata anche doppiata. Perché non ci sia la voce italiana? Così potevo chiedere se corrispondesse. Ah, ho fatto suona rosso. Qua? Ah, suona pure qua. Che c'è qui? Quadrato? Oh, parca uttana. È già stato a freddore. Come si vedrà questo? Ok, così. Ma certi agenti non sono permessi. All'interno dell'agenzia. L'agenzia è un po' così... Generica. Armi, ok. Cercavarsi da computer, orologi smart, telefoni. Qualsiasi cosa smart. Matite. Paperelli di gomma. Ok. Più trippante di quello che pensassi questo... Questo gioco. Ok. Si apre da sola. Non fate mettere paura, su. Non posso fare niente. Non metti l'ansia a questa porta. Si apre da sola, però... pure questa. Queste luci, poi. Questo gioco mi sa che non sarà proprio tranquillo. Questi suoni. Vediamo un po'. Staff sorveglianza. E' boh. E' boh. No. Ok. Sembra di ripresa una pagina sola. Non trovo niente per scorrere. Perché sta luce così mi dovete mettere? Questa luce. Questa luce. Questa luce. Questa. 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 Ma che sia un sogno, questo? Sia un loop mentale. Oh, quel quadro già mette l'ansia ancora di più, cazzo. Che era? Che ansia? Perché mi dice che devo correre? Ok. Ma questo era quel quadro. Questo era il tipo. Posso andare di qua o di là? Vediamo, la porta dovrebbe... Ah, eccessi mancabili. Oh, io ho queste porte che saprò che si chiudono sole. C'è anche me. Già che tanto lo so che mi metteranno i quadri che cambiano persone, cambiano qualcosa, già mi metterà l'ansia. Sotto? Eh, ma vanno a queste musiche. Non ci si va sotto? Sembrava facile facile. Ci sta il vetro? Ma sarà tutto solo se sto gioco? Perché non lo so se è un reggo? Ah, ah. Ah, ah. Non pensavo fosse in action, tranquillo. Andiamo a questi ordini di sicurezza. Eh, anzi, legge un cazzo. Sparate per uccidere, ok? Ok, grazie. Sparate per sapere queste cose. Qua niente. Eh, che era lì? Eh, è un riflesso. Da lì sono venuto, giusto? sempre peggio sento una musica, una voce, li lamenti, non so cosa sia, perché mi fate queste cose? come probabilmente già saprete, i rapporti R4 li sconfittano fino a settimana ok, perché mi mettete queste voce? ah, c'è quello che pulisce là questo che guarda vediamo se c'è qualcosa qua vabbè non c'ho armi, non c'ho niente vedrei che posso stare abbastanza tranquillo scusami scusami Sì, devi andare in l'interview, andare in l'elevator. Grazie, l'elevator in l'elevator, ho capito. Molto bene, io sono Ahdi, il sanitario, per l'altro. Tu fai lavorare per me, puoi dire che ho senti. Se non fai lavorare per te, tu sei un'elevento. Sì, hai lavorato per gli ucchi, prendi l'elevator in l'elevator. Ok. Sì, l'elevator in l'elevator è un peggio amore. È meglio che qualcuno con nessun peggio. Ha, pensi. Nessun peggio. Ma, quello che diceva, lo sai cosa stai pensando. Se c'è un ucchi, è lui. Lui chi? Arena mappata. Ok. Quindi che devo fare? Missioni. Cerca di risposte ai misteri della sua gioventù. Ok, quindi. Che devo fare? Che devo fare? Non c'è scritto un cazzo di cose da fare. Qua che c'è? Ovviamente per lì. Eh, comunque mi aiuta il mio, però. Non ci posso entrare, eh. Va bene, andiamo a fare sto colloquio. Se proprio insistete. Ma. Non c'ero venuto da qui. Eh, c'ero... Ah. C'ero venuto da qui, giusto? Mi sto rincoglioni. Scusate. 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 Non ero venuto da qui. Dio, non siete un cazzo di aumentare la luminosità della tv, chi sa, eh. Mi sembrava di essere venuto da lì. Boh. Ok. E son tornato qui. E qui c'era il quadro di quello. E adesso c'è l'ascensore. Ok. Fa sto colloquio. E la poster. E la poster. Io ero 11 anni fa la prima volta che ho visto la poster. Mi hanno detto che l'ho immaginato. Ho cercato di pulirlo da sempre. Avete aiutato? Dice a me? Ok, come prologo. Non c'è male. Vediamoci anche una sigla. se ci fa... Se c'è qualcosa che ci mette la pulce nell'orecchio. bella immagine dovevo dire. Control. Speriamo di non cagarci sotto. Questa. 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 Questa.